La bimba si chiama Mercy, che in inglese vuol dire misericordia, compassione, pietà. Credo che questo riassuma lo sforzo che è stato fatto da tutti questa mattina per restituire alla normalità una situazione che proprio normale, almeno dal nostro punto di vista, non è stata. Questa bimba ci è stata portata dai colleghi del 118 che l'hanno assistita fin dai primi istanti. Nonostante tutte le loro premure e attenzioni data la bassa temperatura ambientale è arrivata in una condizione di ipotermia, però nonostante tutto è stata da subito molto reattiva alle nostre cure. In questo momento sta bene, è riguadagnato calore, ha un buon equilibrio clinico, metabolico e attendiamo che la mamma sia disponibile a riprenderla con sé perché è l'unica cosa in questo momento di cui abbia bisogno.